Alimentazione straordinaria per la Valle della Canna, che oggi presenta un livello idrico intorno allo zero, a causa della scarsa piovosità. Come accade da diversi anni, l'oasi naturalistica facente parte del Parco del Delta del Po si ritrova a corto di acqua, a causa del forte caldo che ha caratterizzato il clima di questi giorni. L'area, soggetta a profonde variazioni stagionali nel livello idrico, si ritrova anticipatamente a secco per una situazione che solitamente si verifica ad agosto. A rischio la sopravvivenza e l'anidificazione di alcune specie che prediligono questa zona, come aironi, tarabuso, pavoncelle, cavolieri d'Italia e numerose specie di pesci. L'assessore Baroncini ha richiesto un intervento urgente di immissione di acqua. Stiamo monitorando con attenzione la situazione, è ovvio che questo periodo così elevato tasso di siccità crea problemi particolarmente in zone così fragili di patrimonio ambientale come è la Valle della Canna. Stiamo attivando tutte le procedure per aprire l'acqua dalla canaletta Exanich che ci consentirà di riportare il livello verso i 10 cm dallo zero attuale, livello che consente di non disturbare l'anidificazione della vifauna che è ancora in corso e però allo stesso tempo di salvaguardare gli equilibri della zona. Consideriamo che questa situazione si verifica solitamente verso la prima settimana di agosto, siamo in anticipo di due mesi, questo record di assenza di pioggia sta mettendo in grave difficoltà tutto l'ecosistema e penso anche a molte attività produttive a cominciare dagli agricoltori. Grazie. Grazie.